Siamo tornati di nuovo insieme a Videotop e parliamo ancora una volta di Musical Award, la partnership con Videotop, un binomio che percorre questo periodo che ci separa al grande evento del prossimo 25 di novembre. Attenzione perché sino al 15 settembre si potrà votare, allora vi invitiamo ad accedere al sito per dare il vostro contributo e votare il miglior spettacolo, il miglior regista, protagonista e quant'altro. Questa settimana prendiamo in considerazione le nomination come miglior attore protagonista. Priscilla, la regina del deserto, Simone Leonardi. Shrek, Nicolás Tenerani. Ciao, io sono Nicolás Tenerani e in Shrek interpreto Shrek, quindi sono quello verde e grosso. Frankestein Junior, Giampiero Ingrassia. Mi dia quella candela? Sì! Riminta a posto la candela! Sugar, a qualcuno piace caldo? Cristian Ginepro. Priscilla, la regina del deserto, Mirko Ranù. Priscilla, la regina del deserto, Antonello Angiolillo. Il vizietto, Cesare Bocci. Ancora il vizietto, Enzo Iacchetti. Prima che siete in tempo perché poi, ai 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 paloma, il vizietto, ovvero la cage o folle. Ma che razza di famiglia pensi che possa venire fuori con un ragazzo tirato su da due travestiti omosessuali? Che no! Un travestito! E un omosessuale semplice. The Full Mountie, Piero Sermonti. Questo è cubano, questo è il sogno di tutte le donne italiane, lo capisci? E poi chiedigli un po' perché lo chiamano cabaglio. Ma sicuramente non perché corre al baglio di Siena. E così per Musical Award possiamo dare la lista delle nomination anche come miglior attrice protagonista. Sister Act, Loretta Grace. Frankenstein Junior, Valentina Gullace. Lupo uno là e castello uno lì. Ero il mio, poi presto! Quale gomma? Gipsy, Loretta Goggi. Non ci sarebbero insegne abbastanza grandi, né l'urci abbastanza forti? Lei è qui, gente! Lei è qui! Oh no! Lei è qui! E' no! L'urci su! A me! Mi vado su! Shrek, Alice Mistroni. Ciao, io sono Alice Mistroni e interpreto la principessa Fiona. Sugar, a qualcuno piace caldo, Justin Matera. Molto umilmente faccio il mio omaggio al meglio delle mie capacità. A qualcuno piace caldo. Eccoli! Non perdete l'appuntamento allora con Musical Award. Fino al 15 settembre il vostro voto è importante. Fino al 15 settembre. Grazie a tutti.